Ciao a tutti, benvenuti di nuovo sul mio canale, scusate per questo aspetto terribile, ho la vestaglia, perché ho sempre freddo, ho il pigiama, però è sempre il giorno in cui ho fatto la spesa all'esternunga parte 1 e volevo farvi vedere cosa mangio stasera, praticamente farò se riesco. Ho questo video in cui faccio un collage e diventerà what I eat in a week, chiaramente rispetto alla spesa che ho fatto, tengo il telefono in mano, quindi non so se sarò stabile o meno, sto guardando il mio piatto, però quello che mangerò questa sera è questo, quindi che cosa c'è nel mio piatto? C'è il carpaccio di polipo che è questo, che è veramente molto buono e poi queste sono delle patate McCain, allora siccome io non ho il forno, le ho fatte nella padella, siccome la padella era troppo calda e il fuoco era troppo alto, è successo che si sono subito bruciacchiate, però dentro erano ancora fredde e dure come il marmo e mezze congelate, quindi ho dovuto metterci un po' di acqua, quindi è un misto tra patata fritta, barabollita, praticamente una patata saltata, ecco. Quindi è un po' non il topissimo di quello che avrebbe potuto essere, ma penso sia comunque molto buona. Questa sarà la mia cena accompagnata dall'acqua, non si vede ma qui dentro c'è dell'acqua. Questa era dell'acqua frizzante e completamente sgasata, che quindi io ora berrò perché so stufa. Non so neanche bene l'inquadratura se mi tagliavo o meno, però non importa. La parte 1 dei miei pasti, anzi, volevo dire delle mie scene, però, dei miei pasti con la spesa inizia oggi. Credo salterò la colazione perché mi sembra un po' stupido, magari ecco la metto se mangio delle cose particolari o delle cose diverse da solito. O se mangio qualcosa che ho comprato, perché in realtà le cose che mangio le avevo già. Cercherò di fare un video ogni pasto, perciò saranno fondamentalmente 14 spezzoni. Che poi non saranno 14, secondo me, ma meno, perché al lavoro non tutti i giorni, probabilmente dal lavoro non riuscirò a tornare per mangiare a casa. Quindi saranno un po' meno, però a grandi linee coprirò questo periodo. Io, il mio polipo con le mie patate, vi salutiamo. Mammaio che ho una fame allucinante. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo passo. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, rieccoci tornati nell'altro buio. Ciao a tutti, io sono qui con la seconda cena. Allora, questa sera avrei voluto fare una ricetta che avevo visto tempo fa, anzi che facevo tanto tempo fa, presa da un libro di cucina. Però poi mi sono ricordata che avevo da consumare dell'insalata, quindi ho cambiato, ho fatto la pasta col pesto, che è questa qui che vedete nel piatto. E poi dopo vi faccio vedere anche l'insalata. Il pesto è quello che ho preso all'asse lunga, anzi sentiamo subito com'è, mi sembra buono. Vediamo, dopo mi metto il pepe perché a me piace un pochino più piccantina. Vediamo, vediamo, vediamo come sei. Buona! Ora mangio la pasta e dopo mi preparo le insalate e vi faccio vedere rapidamente cos'è. Cioè cos'è. Che verdure ha. A dopo già ragazzi! Eccomi qui, io adesso sto mangiando questa insalata, può essere che metta dentro delle noci perché mi serve la scatolina in cui sono dentro, vediamo. Comunque questa insalata in realtà l'ho comprata al Carrefour e sono quelle già fatte. Era carino perché nella vaschettina c'erano quattro scomparti diversi. In questi quattro scomparti c'era l'insalata iceberg, la lattuga iceberg, il radicchio rosso, le carote e la rucola. Io le ho messe chiaramente nello scuola insalata, ho dato una bella sciacquata perché non mangio le verdure così tirate fuori dalla busta. E adesso me la sono condita con olio, aceto, sale, pepe e peperoncino. Questa sarà la rimanente parte della mia cena. Non serve che io mi riprenda in realtà, basta benissimo questa bella insalatona. Io vi saluto, ci vediamo domattina. Ciao ragazzi! Buongiorno a tutti! Io mi sono tipo appena svegliata, infatti ho ancora la voce da sonno. Sono irritardissimo. Questa è la mia colazione. Allora, il caffè che io ho fatto lunghissimo. E questa è la tortina che ho preso quando ho fatto la spesa. Metà l'ho mangiata ieri, metà l'ho tenuta per oggi a colazione. Tra l'altro è veramente molto 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 buona. Ok ragazzi, ci vediamo al prossimo pasto. Ciao ciao! E qui, in questa affascinante rubrica, what I wait in a week, cosa sto mangiando questa sera? Sto mangiando la zuppa di verdura. Allora, in realtà questa zuppa non era nella spesa che, scusate, però visto che ho tutto il mascara sbavato. Dicevo, non era strettamente nella spesa in oggetto. In realtà la cosa che era nella spesa non l'ho ancora fatta e non so se la farò, vedo dopo. Che oggi ho pranzato e non ho digerito benissimo il pranzo, poi ho fatto merenda, peggiorando la situazione. Al risultato, in questo momento, mi sento un po' sotto sopra. Quindi, siccome fuori è freddo, siccome aspettavo un ragazzo dell'essere lunga che mi portasse la spesa, quella che ho fatto a casa, ecco qui. Ho pensato di finire questo poco di zuppa che avevo. Dopo mi preparo, mentre metto a posto, quella per domani, o a cena o a pranzo. Adesso vedo. Se avessi ancora fame, mi faccio il secondo hamburger di melanzane. Oppure magari lo faccio cuocere, comunque poi lo uso. Volevo provare a fare un sugo, tipo vegetariano, un ragù, comunque l'hamburger lì. Poh, vediamo. Adesso ci penso. E niente, io ora mangio questo e subito dopo farò il video sulla mia spesa, insomma, a svuotare la spesa a casa. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo passo, non ho idea di quale sia. Non mi ricordo, forse non l'ho detto, perché ho cercato di girare questo pezzetto 85 volte. Comunque, questa è la zuppa di verdura. Io metto sempre il parmigiano, metto sempre il pepe, un po' di olio, e qui ho messo il sale adesso e mi sono dimenticata di metterlo in cottura. Qui sarà terribile, però bene. E bevo sempre l'acqua. Ci vediamo al prossimo giro. Ciao! Ciao a tutti ragazzi, oggi è il primo marzo e io sono qui a farvi vedere la mia cena. Questa è una delle zuppe che ho comprato ieri all'asse lunga, cioè che mi è arrivata ieri con la spesa dell'asse lunga. Questa in realtà è una parte che io ho avanzato da una precedente spesa, però è la stessa. Ed è una zuppa di ceci e lenticchie nere. A me non piacciono molto i ceci, però i legumi servono ogni tanto, fanno bene. Poi in questo momento è un periodo che ho mangiato un po' di carne, però normalmente non la mangio. Quindi un po' di proteine devo assumerle. Io questa zuppa in realtà l'ho fatta cuocere ieri sera, avevo idea di tornare oggi a pranzo e mangiarla, ma invece con la neve che scende a Bologna non avevo voglia, perché comunque le strade, soprattutto in centro, le pedonali non erano proprio agevoli, avevo pochissimo tempo, rischiavo veramente di arrivare, mangiare, strafogarmi e poi uscire. Sinceramente non mi andava. Quindi ho mangiato fuori e questa è la mia cena. Questa è la mia zuppa. Dentro ho messo un pochino di olio e quello che invece vedete è il parmigiano. L'ho condita con la noce moscata. Ecco, adesso si vedono bene i ceci. L'ho condita con la noce moscata, il pepe, chiaramente un po' di sale e ci ho messo anche un pizzichino di peperoncino. Mi sa che l'altra volta che me l'ero fatta avevo anche un po' frullata. Su giro però non ho voglia di tirare fuori tutto, quindi me la mangerò così. Non mi dà l'idea di essere tantissima in questa ciotola, in questa tazzona, bellissima. Però adesso vedo. Nel caso mi mangio l'hamburger di melanzane che lì mi aspetta da fondamentalmente l'altro ieri. Anche perché teoricamente loro dicono che bisognerebbe consumarlo in molto poco tempo, quindi eventualmente mi mangio quello o un pezzetto di quello. Io vi ringrazio, vi saluto. Credo che l'hamburger sarà l'ultima cosa che rientra in questo giro di spesa, perché poi magari rifaccio lo stesso video, ma sull'altra spesa. Così vediamo anche quanto sono brava e quanto poco avanzo. Vi ringrazio e vi auguro buona serata. Ciao! Ciao ragazzi! Alla fine ho deciso di ultimare il mio video come da programma, quindi mi sto mangiando il secondo dei due hamburger di melanzane. Questa è la scatola. Poi come verdura ci accompagno questo bel broccolo, che io ho fatto lessato al microonde. Mi devo prendere, perché l'ho saltata questa mattina, una di queste pastiglie che sono tipo degli integratori, ma magari se volete ve ne farlo in un secondo momento. E poi mi berrò questa tisana, che è una tisana che io compro da Natura Si, liquirizia digestiva. Io vi ringrazio tanto, è stata una settimana nel senso che io ho acceso la telecamera, e me la credo mercoledì o giovedì scorso e chiudo quello successivo. Non ho fatto tutti i pasti, perché alcune cose le ho mangiate fuori casa. Spero il prossimo di farlo meglio, o comunque almeno di fornirvi delle alternative con una spesa banale, tra virgolette, normale, che può fare qualsiasi persona. E magari non sono così scontate. Vi ringrazio e ciao, buona serata! Grazie a tutti!